I just wanted A quanto pare sarà eletto anche il primo finalista di questa terza edizione, che giungerà a termine prima del previsto Intanto i primi sondaggi, che raramente sbagliano, annunciano che sarà la del santo ad abbandonare il reality show Ma in questa serata ci saranno parecchie novità.Anticipazioni Grande Fratello Vip, via Lori del Santo Lori del Santo, potrebbe essere la prossima concorrente eliminata del Grande Fratello Vip L'attrice è finita in nomination assieme a Ivan Cattaneo nella scorsa settimana. Stasera, Ilari Blasi dovrebbe annunciare, anche il primo finalista che accederà direttamente alla finale del 10 dicembre Nella casa più spiata d'Italia entreranno i ricchi e poveri i quali canteranno insieme ai concorrenti Ci sarà anche il rapper Baby Kappa insomma, si preannuncia una serata entusiasmante e piena di colpi di scena Grande Fratello Vip. Chiusura anticipata per flop di Ascolti.In L Grande Fratello Vip 2018 non ha ottenuto il medesimo riscontro delle precedenti edizioni A nulla sono servite le storie d'amore nate all'interno delle mura di Cinecittà. La partecipazione delle numerose star italiane come Francesco Monte, Le Donatella, Ivan, Lori, Cecchi Paoni, Walter Nudo, non hanno catturato l'attenzione che la padrona di casa si aspettava Ed ecco che il programma, anziché chiudere il 17 dicembre, saluterà il pubblico il 10 dello stesso mese Insomma, mancano sempre meno giorni. Chi si accaparrerà il premio da 100.000 euro? Insomma, mancano sempre meno giorni.